Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, siamo nuovamente su Canale Italia 11 e non solo, su 196 paesi al mondo attraverso la nostra radio e poi naturalmente con tutti i nostri amici di Roma che ci seguono ormai ogni settimana. Siamo in tantissimi e cerchiamo di divulgare anche a livello politico ciò che sta accadendo adesso nella capitale. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Dario Marcucci e sono candidato nella lista del Consiglio Comunale per il Partito Democratico. Bene, molto piacere di fare la conoscenza di lei e delle varie persone, del suo staff e naturalmente abbiamo l'opportunità di presentare ai nostri amici tutto quello che state portando avanti in questo periodo. Eh sì, dunque noi stiamo cercando di fare una campagna elettorale che sia la più chiara possibile, stiamo cercando di spiegare bene quale saranno le attività che se dovessero darci la responsabilità tenteremo di realizzare. Crediamo che questa città abbia bisogno di un rilancio forte e noi crediamo di avere le idee giuste e anche la capacità giusta. Bene, c'è uno storico del quale vogliamo parlare? Che cosa c'è stato in passato? Che cosa avete portato avanti? Beh io sì, diciamo che non sono proprio nuovo di queste vicende, ho avuto la fortuna di fare per due volte il presidente di un municipio, anzi di due municipi diversi. E quindi una qualche esperienza ce l'ho, sono state esperienze per me fondamentali e oggi mi danno la capacità, la possibilità e anche un po' le idee chiare su quello che serve a questa città.